Con oggi dorma in sei giorni, continua la protesta silenziosa dei circa 150 addetti ai cantieri di servizio che nel rivendicare il primo mese di indennità maturate continuano a presidiare pacificamente l'atrio del municipio. Sabrina Bellino, coordinatrice regionale di FNI, fronte nazionale italiano, li ha raggiunti nel momento della protesta. Tutti noi siamo qua in questi giorni che dovrebbero essere festivi, in questi giorni che dovrebbero dare serenità alle persone. Siamo con l'incirca una minima rappresentanza dei cantieri dei disoccupati che veramente non solo sono cantieri disoccupati, portano i disoccupati a omigliarsi per l'enesima volta perché dopo un mese di lavoro i loro stipendi e quello per cui hanno lavorato non vengono dati. Queste persone sono lasciate sole e prese in giro. Qualcuno sta dimenticando che questa gente ha delle famiglie e è Natale anche per loro e la devono smettere di prendere in giro i padri di famiglia e portarli davanti il clavattaro di turno che li umilia continuamente con false promesse. Gli addetti ai cantieri di servizio chiedono di essere pagati e non vogliono essere presi in giro perché dicono devono sfamare le loro famiglie. Situazioni dunque insostenibili perché dopo aver effettuato 30 giornate lavorative non hanno ancora percepito un euro. Sono un semplice cittadino come gli altri, purtroppo siamo parti di famiglia, loro stiamo morendo dalla fame, veramente non ci possiamo comprare quasi neanche il pane. Io faccio un appello al signor Sindaco, all'assessore Roberto Gravina perché ci hanno promesso e le promesse non li mantengono. Io da qua adesso non mi sposto finché non mi danno una risposta. Dal municipio di Galtagirona hanno informato che i loro mandati di pagamento sono già all'istituto di credito e le stesse banche stanno predisponendo gli atti burocratici di competenza prima di saldare loro le aspettanze dovute.